Ciao a tutti, sono Fra Vinicius Sottocorno della Congregazione della Coppiosa Redenzione e partecipo al Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2022 con una mia canzone in medita dal titolo Vale la pena. Fra Tevinicius ha 27 anni, il suo cammino di fede è iniziato 9 anni fa da reggente Fejo in Brasile. Il suo incontro con la musica invece parte nei cori della chiesa quando aveva soli 7 anni. Tra i generi musicali quella cristiana in Brasile ha un risalto molto importante e simile a quella dei grandi gruppi pop e rock da noi in Europa. Così quando una sua amica gli ha raccontato di questo festival della canzone cristiana ci ha pensato un po' su, poi ha chiesto ai suoi superiori e da lì, dopo il permesso, in 15 giorni ha scritto la canzone affidandosi al suo amico Corrado Sillitti. Del Festival racconta le emozioni vissute, il grande senso di fratellanza e quando gli chiediamo per lui cosa sia la musica dice un incontro con noi stessi, con l'altro e con Dio. Così il racconto della storia di vocazione del giovane Fra Vinicius ha colpito la giuria che lo ha proclamato vincitore del primo festival della canzone cristiana Sanremo con il brano Vale la pena, che ha ricevuto anche la menzione speciale alla migliore realizzazione discografica curata dalla C.S. Production. Grandissima la soddisfazione perché pensare che dentro queste quattro mura siano stati arrangiati questi brani, gli abbiamo dato un vestito che poi è stato molto apprezzato, tant'è che tra i premi abbiamo vinto pure quello della migliore produzione discografica, è stato veramente un qualcosa di meraviglioso. Poi tra l'altro due storie particolari, Letizia ci conosciamo da tanti anni, ha avuto il piacere di curare le sue produzioni, i suoi primi due album. Fra Vinicius quasi per caso al termine delle iscrizioni mi ha detto abbiamo 48 ore, riusciamo ad arrangiare il brano? Dico ci proviamo, non ti preoccupare, e addirittura abbiamo vinto, quindi meglio di così non poteva andare. Premio Roberto Bignoli per Tu sei tutto per me di Letizia Centorbi. È stata una grande emozione sicuramente e quel premio mi ha emozionato ancora di più, dato che Roberto Bignoli ha avuto la conversione nello stesso posto dove l'ho avuta io, a Meggiugoria, quindi per me è stato bellissimo riceverlo dalle mani della moglie. Lui è famosissimo per la sigla di Radiomaria, la ballata Maria, molto famosa. Per me è stata una grande, grande soddisfazione. Tu sei tutto per me, c'è un motivo dietro. Il brano è nato in un momento di grande dolore, è una grande prova della mia vita. La mia vita è Giovanna, molto famosa. Ci vediamo! Grazie.